Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1927, per prima cosa iscriviti al canale gratis Signori, ci siamo, ci siamo fra poche ore, parlerà anche Calzona, la prima conferenza stampa La prima conferenza stampa, mi raccomando ragazzi, stiamo crescendo in una maniera incredibile Quindi mi raccomando, iscriviti al canale che è gratis, a te non ti costa nulla, per me conta tanto E mi raccomando, il tasto like e un commento qui sotto per farmi sapere la vostra per come pensate che debba giocare il Napoli di Calzona Detto questo, parliamo proprio del nuovo Napoli di Calzona perché sento parlare molto da ieri fino a questa mattina Ah ma come giocherà Calzona? Ragazzi, come potrà mai giocare uno che ha fatto scuola Sarri e scuola Spalletti? Allora, le opzioni sono una e una soltanto ragazzi, con quel famoso 80% come ha detto Aurelio De Laurentiis Che conosce bene l'80% della squadra, quindi la formazione si fa da sé per domani ragazzi Quindi non creiamo tanti contenuti, ah lui giocherà, lui spostato a destra, lui spostato... Waiu, sono solo stronzate, scusatemi la parola perché vi fanno credere a grandi intenditore di calcio Se volete sentire un intenditore di calcio, seguite Azzurro Fluido Valerio, Waiu, se volete sentire qualcuno che sa parlare di calcio e sa come si analizza la partita Andate su Azzurro Fluido, Waiu, perché Valerio è uno, Waiu, penso che sia uno dei migliori youtuber napoletani in circolazione Poi decidete voi se volete passare, comunque passateci perché è veramente il top ragazzi Io spero che quelli che sono iscritti a questo canale lo conoscano già a Valerio perché Waiu è una persona eccezionale Comunque, tralasciando questo 4-3-3 ragazzi, semplicemente, il Napoli di calcio 1 giocherà con il 4-3-3 Non ci saranno stravolgimenti di moto, il 4-2-3-1, il 3-5-1-1 No, no ragazzi, non ci sarà né difesa a 3 né difesa a 5, non ci sarà niente Sarà il solito classico 4-3-3 di Luciano Spalletti E forse anche per questo che Aurelio De Laurenti si è andato a riprendere un allenatore che segue il modulo del 4-3-3 Che possa interagire meglio con i giocatori e farli crescere ancora di più Secondo me, io la butto lì, io la butto lì questo arrivo di Sinatti, scusatemi di Calzona L'anno prossimo potrebbe riportare Sarri a Napoli Io la butto lì e poi, poi fatemi sapere voi Se gradireste un ritorno proprio a Napoli di Maurizio Sardi Io lo prenderei subito Sardi La Lazio, come vieni qua a Napoli? C'abbiamo la panchina lunga, non c'abbiamo gli stessi 11-12 che dicevi tu l'altro 4 anni fa Vieni a Napoli e risolviamo i problemi Ci ripichiamo tutti che le connost Quel famoso scudetto dei 91 punti grida ancora Grida ancora Allora, 4-3-3 classico ragazzi Con, secondo me, Meretti in porta Perché Meretti, finché c'è Meretti, gioca Meretti Anche se io preferisco Collini a Meretti In molti preferiscono Però Meretti ha fatto un partitone anche la scorsa partita contro il Genova Quindi è giusto continuare con Meretti in porta Difesa 4 Di Lorenzo Inamovibile di Luciano Spalletti Inamovibile di Garzia, di Mazzardi, di chiunque Di Lorenzo Rachmani Juan Jesus A come Neapolis, Juan Jesus Juan Jesus, secondo me, giocherà sempre titolare Queste ultime di campionato, giocherà sempre lui titolare Dall'altro lato Nemmeno Mazzocchi Secondo me giocherà Mario Rui Nemmeno Olivera Punterà tutto su Mario Rui Ne sono convinto al 100% Centro campo a tre Lobotka Che lo allena in nazionale Quindi sa già Lobotka cosa deve fare con Calzona Dall'altro lato Naturalmente Angissà E dall'altro lato Zelisky No, non è vero Perché non è nella lista Champions E il Napoli Sappiamo che non vuole Che non vuole Far giocare Zelisky Proprio perché Oramai deve andare via Non ha più senso puntare tutto su Piotto a Zelisky In quel posto lì ci vedo bene Traore Occhio anche a Cajuste Quindi occhio a Ju Perché Cajuste potrebbe prendersi anche il posto da titolare Bisogna vedere lui come lo intravede Traore Se lo vede più esterno sinistro alla capara Oppure lo può mettere al centrocampo Va bene Per dare più movimento al centrocampo Una cosa più veloce tipo Zelisky In attacco a Ju Il solito Politano Dice ma non me ne apri Può che se punta su Politano A Ju punterà su Politano Secondo me Pochi cazzi Ma lui punterà su Politano Cioè può giocare sia in Gong Che oggi ha fatto la rifinitura Una piccola parte L'ha svolta da solo Personalizzato in campo E poi si è aggiunto al gruppo Quindi ci sarà domani tranquillamente contro il Barcellona Come detto Tanto poi andremo a ascoltare le parole di Calzona Le prime parole di allenatore del Napoli Voglio sentire cosa dice Calzona Poi naturalmente ci sarà il post partita dell'Inter Questa sera Non vi preoccupate Usciranno tanti video Due, tre bar Morimono poco Quanti video escono stasera Come detto Sulla destra giocherà Politano Però Un Gong Io non lo so Io preferisco un Gong Sono sincero Ma pure Lindstrom Potrebbe giocare In quella posizione di campo Bisogna vedere lui Come lo intravede Come lo intravede Però Politano Secondo me sarà titolare Di questa squadra di Calzona Perché? Perché ce l'ha avuto con Spalletti Quindi già sa come lo deve allenare Già sa come deve giocare Politano Già sa i movimenti Non che deve andare da Hong Kong Deve rispiegare tutto da capo Deve fare questo, questo e quello Perché poi nella testa dei giocatori C'è anche la cosa di dire Eh ma con Garcia facevamo una cosa Con Mazzarini abbiamo fatto un'altra E ora con questa Invece quelli che c'erano Il famoso 80% Il blocco dell'80% della squadra Si ricorda i movimenti di Spalletti Se si ricordano solo la metà Di come giocavano con Spalletti Non ce n'è per nessuno Lo sapete In attacco naturalmente ci sarà Ozyman Ozyman a guidare l'attacco Poi Si andrà a scambiare Sia con Raspadore e Simeone Raspadore non lo vedo esterno Aiu Prima punto o sottopunto Ma vediamo un pochino E dall'altro lato Aiu Kvara Eh Kvara Perché ha fatto le fortune di Spalletti D'anno scorso E quindi penso che il calzono Ascipunti proprio al 100% Su Kvara E Kvara è quello che ti dà Il brio all'azione Quello che quando tocca a palla Fai E Kvara Io come l'ho detto Quando sono andato a vedere Napoli-Verona Kvara toccava a palla Non facevo nucazza Passava solo all'indietro Oh Kvara è quello lì Che ti fa innamorare del calcio E quindi questa secondo me Sarà la formazione Che lui opterà Già per il Barcellona domani Non ci saranno stravolgimenti di modulo Si andrà sul 4-3 Classico Perché poi Bisogna anche dire questa cosa I giocatori erano abituati Con il 4-3 O che si ha fatto il 4-3 Poi cambiava in corsa E poi di qua e poi di là Con Mazzari siamo partiti Con il 4-3 Poi il 3-5-1-1 Poi il 4-2-3-1 Cioè Tu nella Nella testa del giocatore Vai a creare confusione Ecco Quello che non serve a Napoli In questo momento È confusione Se Napoli può battere il Barcellona Io ti dico di sì Per la motivazione Che il Napoli Vaglio io lo amo E quindi per me potrebbe vincere Pure con il Real Madrid Cosa impensabile Si vedrà domani Vaglio Si vedrà domani Naturalmente Calzona Non è che ti dice Vaglio È arrivata Calzona Abbiamo stravolto tutto E No Questo non lo penso Che in una partita In un allenamento Ti abbia così motivato Da staccare i seggiolini Dello stadio domani A straticare l'erba da terra Non penso Poi Se è un mago E c'ha la palla di vetro Dice Aiù domani Vinciamo 4-5-0 E andiamo ai quarti di Champions League Ci metterei la firma Oggi Domani Cioè Aiù Quindi non lo so Vabbè Fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Aiù